Sono stati illustrati in Commissione Affari Istituzionali i provvedimenti economici e finanziari che compongono la prima variazione alla manovra della regione toscana. Si tratta di un passaggio che interviene con due mesi di anticipo rispetto alla consuetudine per facilitare la programmazione e l'utilizzo delle risorse. La variazione alla manovra prevede interventi per complessivi 270 milioni di euro nel 2019, 69 milioni sul 2020 e 50 milioni sul 2021. Tra le voci più significative si segnalano i 150 milioni previsti per il finanziamento del piano di investimenti straordinari in sanità, 50 milioni per ciascuna annualità nel triennio, che dovrebbero aggiungersi ad uno stanziamento previsto dal Governo nazionale per interventi infrastrutturali e tecnologici in sanità e ai finanziamenti delle singole aziende. Per il trasporto pubblico locale è previsto il reintegro del Fondo regionale per 5 milioni di euro a compensazione di un taglio del Fondo nazionale trasporti operato quest'anno. Sempre in tema di trasporti è previsto il rifinanziamento di 1,6 milioni di euro nel 2019 per lavori di manutenzione ordinaria sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Un finanziamento di 8,8 milioni nel prossimo biennio è destinato inoltre al rinnovo del parco autobus. Nell'anno 2020 è inserito un finanziamento di 5,5 milioni di euro per realizzare la nuova sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie dell'Università di Firenze. 6 milioni di euro saranno invece destinati a un bando per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 200 mila euro per ciascuna annualità 2019-2020 sono previsti per contributi alle famiglie con disabili per l'acquisto o modifiche alle autovetture. I provvedimenti della prima variazione di bilancio potrebbero essere sottoposti al voto del Consiglio regionale la prossima settimana, previa discussione nella Commissione da convocare martedì 9 aprile. Si potrà entrare nell'accampamento, respirare l'aria che precede la battaglia e poi all'imbrunire vedere dal vivo lo scontro. Oltre 300 figuranti il prossimo 15 giugno popoleranno l'area sotto le mura di Colle Valdelza. Cavalli, costumi d'epoca e compagnie di rievocazione storica faranno rivivere le sorti della battaglia che 750 anni fa vide contrapposte le truppe ghibelline di Siena e quelle guelfe di Carlo D'Angio e di Firenze. La battaglia di Colle Valdelza rappresenta uno degli episodi che in qualche modo fanno la storia della Toscana. Un evento molto importante perché Firenze il 17 giugno del 1269 ribalta sostanzialmente quello che era avvenuto nove anni prima quando a Monte Aperti Siena aveva sconfitto, imprigionato molti fiorentini e soprattutto determinato un equilibrio che sembrava volgersi verso le città ghibelline della Toscana. Dante ricorda in modo molto efficace la battaglia di Colle Valdelza nella Divina Commedia e ricorda come la stessa zia di Provenzan Salvati vide rotolare la testa del nipote e contemporaneamente con questo vide segnare le sorti di una battaglia che portò poi sostanzialmente all'egemonia di Firenze nella Toscana. Il fatto che si ricordi questo non deve essere inteso in senso campanilista, tutt'altro. Colle Valdelza è città che ha avuto un ruolo strategico negli equilibri della Toscana e proprio da quella battaglia 750 anni dopo vale la pena di riferirsi per una lettura storica di quello che poi sarà il dinamico sviluppo della nostra regione. Molti gli eventi collaterali organizzati nell'epoca precedente e successiva alla rivocazione storica vera e propria. Si è previsto per l'11 di maggio una grande cena in costume che verrà realizzata probabilmente in piazza Duomo a Colle Valdelza. Saranno tutti vestiti in costume, saranno rispettati gli alimenti dell'epoca e così anche le posate. Non ci saranno né porchette, né cucchiai, né pomodoro eccetera. E successivamente oltre a questo evento per tutto il mese di maggio ci saranno degli eventi lungo la città con cortei, battitori, sbagneratori eccetera. È previsto tra l'altro anche un mercato, un mercatino sempre in stile che sarà realizzato subito dopo le elezioni. Ringrazio l'Associazione Prologo e Luciana Calamassi che mi aiuteranno in questa organizzazione perché non è solo un evento culturale, perché ci saranno dei convegni che apriranno questo evento, ma sarà molto un evento turistico. Quindi la rievocazione vera e propria della battaglia di Colle nel parco di Bacio a Colle Valdelza. Ora abbiamo scritto un libro su di me, ma se gli interessa a qualcuno penso che sia una cosa bella. È sempre un bel documento, parla della mia vita e mi emoziona anche un pochino parlare di questa cosa perché uno nella vita arriva a una certa età, una veneranda a una certa età, anche io, insomma, cominciamo a fare una età e insomma, se a trovare delle persone che credono, hanno creduto e credono tuttora in qualcosa in me, insomma, questo un po' mi fa emozionare. Uomo di spettacolo, schiettezza e ironia tagliente di Toscano Doc, Sergio Forconi, ma soprattutto uomo semplice, capace di donarsi agli altri. Non a caso i proventi del libro dedicato alla sua vita e alla sua carriera, così come quelli del film Saranno Famosi, girato in Toscana, andranno alla fondazione Tommasino Bacciotti, da 19 anni impegnata in sinergia con l'ospedale pediatrico Mayer, nell'assistenza ai bambini affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie, cercando di ricreare l'atmosfera familiare in appartamenti per dare la possibilità ai piccoli di poter continuare le cure in ospedale, ma di stare anche a casa. Nel libro su Sergio Forconi, curato da Alessandro Sarti, sono raccolte le testimonianze di 56 amici e colleghi dell'attore, tanti volti noti dello spettacolo che hanno conosciuto Sergio e hanno lavorato con lui, come Leonardo Pieraccioni, Barbara Enricchi e Atina Cenci. È iniziata questa avventura, questa storia, quando abbiamo girato il film Saranno Famosi, io ne sono stato il regista, un film a produzione indipendente, dove tutto il ricavato è andato alla Fondazione Tommasino Bacciotti. È iniziata da qui questa storia, conosco Sergio da tanto tempo, ma da qui è partito il let motive di raccontare una storia, una storia di un uomo semplice, di un uomo per bene, di un uomo che inizia da una piccola frazione di un paesino di San Casciano, Pisignano, dove lui nasce, fino a poi arrivare a Grassina, partire come metalmeccanico e formarsi nelle prime case del popolo, come quella di Grassina, con i primi teatri amatoriali e piano piano salire sui palcoscenici alla ribalta delle grandi cose che lui ha fatto. La cosa che mi ha colpito e che ho rimarcato sul libro è l'aspetto paterno di Sergio, una persona per bene, uno spettacolo d'uomo come racconto io, ma tutto quello che ha fatto nella sua vita lo ha raccontato e regalato a tutti noi, con sorrisi, con benevolezza e anche con quell'aspetto che l'ha sempre con gran distinto di onestà e di semplicità, sia dovesse girare il grande film o il piccolo cortometraggio, si è sempre prestato a tutti e ha sempre collaborato con noi. Io ne sono profondamente felice di aver fatto quest'opera e di condividerla con le tante persone, ci sono 56 testimonianze da Leonardo Pieraccioni a Tina Cenci, a Barbara Enrichi, a tanti uomini del ciclone ma non soltanto, a tante persone che all'inizio, in aspetto teatrale, poi televisivo e cinematografico, lo hanno accompagnato e insieme a lui hanno raccontato un pezzo di storia. Sergio Folconi, e qui c'è scritto uno spettacolo d'uomo, ma insomma, sarei un uomo di spettacolo che gli hanno invertito un po' la parola, dice sono tutte e due, boh, io lo dico a loro, l'ha detto l'autore, io non dico nulla. Invertito ha ragione per tutto che l'ha fatto, e che fa? No, ora ha invertito, chiariamolo a questa parola invertito, no, no, invertite la parola, no, 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 se no, è avuto. Sulle note del tenore Marco Voleri e del maestro Pepe Fessicchio, il tour internazionale 2019 dell'Associazione di Promozione Sociale Sintomi di Felicità fa tappa a Firenze. Il 17 aprile si terrà il galà di beneficenza all'auditorium CTO di Careggi. A beneficiare della raccolta fondi sarà l'associazione Agimus Firenze, a sostegno del progetto Musica in Ospedale, una stagione di concerti in ospedale pensati per i degenti, per le loro famiglie e per il pubblico esterno. Il 17 aprile alle ore 19 al CTO Careggi ci sarà questa seconda tappa del Sintomi di Felicità International Tour 2019, che vedrà la presenza del maestro Pepe Fessicchio, accompagnato dai solisti del sesto armonico, dal sottoscritto tenore con sclerosi multipla. L'obiettivo dell'evento è fare sensibilizzazione sulla malattia attraverso la resilienza e raccontare che comunque si può vivere e sperare in una vita come la si desidera, anche come una malattia invalidante, permanente e degenerativa come la sclerosi multipla. Questo tour ha la seconda tappa a Firenze italiana e poi si sposterà in Oriente, quindi faremo Sendai, Tokyo e Pechino. Sintomi di Felicità è un'associazione toscana che opera nel mondo e utilizza la musica come veicolo per raccontare che attraverso la debolezza della malattia si può vivere la vita che sogniamo. Il concerto arriva a Firenze dopo il successo ottenuto al Teatro Bellini di Catania lo scorso 24 febbraio. Marco Voleri è un esempio, un esempio per tanti di noi, con il suo impegno quotidiano è riuscito a trasformare la sua malattia in una grande opportunità, quella di dare la possibilità a chi non ce la fa, mettere in campo iniziative benefiche, belle, importanti che danno il segno della possibilità da parte di tutti di potercela fare e spero che tanti cittadini della Toscana possano partecipare e dare il loro contributo di solidarietà.